bella raga qua è savis che vi parla bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale oggi metodo nuovissimo raga per mergiare la nostra testa come ben sapete per mettere cappellino occhiali maschera eccetera eccetera bisogna andare sempre a canocchiale correre verso il canocchiale spammare la freccia destra aprire il menu interazione a volte non ci riusciamo ci ripropiamo in 10 volte la maschera non si leva poi si bugga dobbiamo riavviare du coglioni raga invece oggi vi faccio vedere il metodo più semplice che è mai esistito raga per mergiare la nostra testa quindi requisiti auto officina e una volta che abbiamo fatto l'allestimento siamo già pronti per fare il glitch adesso vi faccio vedere come passare per esempio il rebriter da un outfit all'altro come ben sapete bastava correre a canocchiale con l'outfit con il rebriter e poi mettere l'altro ora lo facciamo qua seduti raga quindi ci sediamo interagiamo con le sigarette ci mettiamo a fumare e appena inizia l'animazione cambiamo l'outfit e mettiamo quello dove vogliamo per esempio il rebriter raga è veramente easy e a sto punto sbada bam appena finita l'animazione avremo passato il rebriter ragazzi senza correre sbatterci eccetera eccetera adesso vi faccio vedere una simulazione raga di maschera occhiali e cappellino il principio è sempre lo stesso quindi partiamo indossandoci la maschera ci sediamo ragazzi e una volta che ci siamo seduti andremo a mettere il cappellino dopo che vi ho schiacciato x o quadrato perché giocherà play quindi quando fa l'animazione andiamo subito sullo stile e ci andiamo a mettere raga il cappellino perché l'ordine è maschera cappellino occhiali quindi a questo punto una volta che finirà l'animazione vedrete che si immergerà il cappello con la maschera a questo punto ragazzi andiamo a mettere gli occhiali quindi facciamo la stessa cosa rischiacciamo x o quadrato per interagire con la sigaretta e nell'animazione andremo a mettere gli occhiali e appena finirà l'animazione raga e sbada bam lasciate un like se vi è piaciuto il video commentate condividete aiutatemi a far crescere questo canale per far sì che il video vanno nei consigliati ragazzi e se vi servono account moddati il prezzo è di 50 euro fast run 7 miliardi outfit moddati e che più ne ha più ne metta bella raga alla prossima sbada bam ciao